Segretario per l'FCA di Prato-la-Serra, non ci sono buone notizie, ma quanto sono negative queste notizie? Noi innanzitutto abbiamo intenzione di chiedere rapidamente un incontro alla direzione aziendale per chiarimenti oggettivi sul fatto che questo stabilimento a novembre finisce l'utilizzo del contratto di solidarietà. Quindi noi vogliamo sapere rispetto a quei numeri cosa succederà nel prossimo futuro. Perché se termina il contratto di solidarietà ci sono due strade. O che l'azienda giunge finalmente alla produzione dell'obiettivo dei famosi 500.000 motori che permettono non solo la rioccupazione di tutti i lavoratori che c'erano dentro, ma anche la possibilità di avere nuovi occupati. Oppure il rischio che c'è invece, su una risposta che non fosse di queste condizioni, il rischio che c'è di continuare con gli ammortizzatori sociali. Un segnale vogliamo dare all'azienda, anche questo contratto di solidarietà deve essere utilizzato in maniera condivisa con i lavoratori. Non si può far lavorare i lavoratori per due settimane di seguito sul turno di notte. C'è bisogno invece di rispetto nei confronti dei lavoratori che in questo momento è un po' venuto meno da parte dell'azienda. Come voi sapete oggi gli stabilimenti di assemblaggio di FCA in Italia, sto parlando degli stabilimenti che assemblano le auto, Cassino, Pomigliano, Mirafiori, la stessa Melfi, oggi hanno un impatto degli ammortizzatori sociali. In molti stabilimenti anche le altre organizzazioni sindacali stanno chiedendo, oltre che la FIOM, di avere nuovi modelli per poter saturare gli stabilimenti. È del tutto evidente che uno stabilimento come quello di Prato la Serra, che è uno stabilimento di componentistica perché fa i motori, e se non c'è un aumento dei volumi produttivi in Italia è chiaro che ne soffre anche lo stabilimento di Prato la Serra. Ma noi confidiamo che l'azienda scelga lo stabilimento di Prato la Serra come lo stabilimento centrale per il rilancio dei motori all'interno del nostro paese.